di nuovo benissimo YouTube sarà un po' più tardi però facciamo la registrazione qui buonasera a tutti bentornati, benvenuti oggi abbiamo una conversazione un po' più leggera oggi parleremo su parlare se vi piace parlare di che cosa vi piace parlare tutto questo poi potete vedere Kelvin, io penso che tu non puoi vedere le domande, no? no, no sì, posso vedere le domande ah sì? sì penso che oggi siamo io penso che possiamo stare prestare tutto insieme Rosalia, no? cosa pensi? penso di sì perché siamo otto persone sì, sarebbe meglio sì, perfetto quindi restiamo, no? tutti insieme sì, va bene cominciamo abbiamo qui ah qualcuno nuovo? Anna? sei nuova qui con noi? sì, no? ah, benvenuta sono famiglia Anna e Manuel sì, no? Anna è mia moglie ah, perfetto benvenuta tutti più o meno non sanno come funziona come anda e talk in talk però parlerò un po' come sempre è una piattaforma per praticare lingue diverse diversi abbiamo spagnolo portoghese tedesco inglese italiano francese io penso che soltanto questo ho molte un sacco di lingua non sono un insegnante di italiano sono una studentessa quindi imparo insieme a voi siamo tutti io penso che abbiamo tutto un stesso livello qui però le persone che non sanno molto bene l'italiano anche può è oggi mio italiano è possibile partecipare anche anche le persone a un livello base no? l'idea è ascoltare l'italiano imparare si può non so vedere una parola nel dizionario non è una cosa per soltanto per avanzato o intermedio abbiamo sempre 10 domande più o meno su un argomento ogni settimana abbiamo un argomento diverso e l'idea è leggere la domanda rispondere ognuno ha un turno per parlare rispondere tutte le domande o quasi tutte le domande perché a volta non abbiamo tempo di finire tutte le domande quindi per cominciare no? sì sì faremo una piccola presentazione Rosalia velocemente una piccola presentazione per favore sì buonasera a tutti sono Rosalia ho 54 anni anni abito a Joinville in San Catarina sono esposata ho due figli sto imparando l'italiano da poco però ho dimenticato un po' un sacco di parole però siamo qui per imparare insieme grazie Rosalia Edina per favore buonasera a tutti sono Edina abito a San Paolo ho un figlio sono divorziata ho 68 anni sono professoressa nella università di psicologia di facoltà di psicologia sono qua per imparare un po' di più parlare chiacchierare con tutti conoscere molte persone diverse è stato un piacere della seconda volta che ho partecipato e sono molto contenta bravissima Edina grazie Anna buonasera una volta io buonasera a tutti mi chiamo Anna sono nata Rio de Janeiro ma vivo a Indaiatuba una piccola città di San Paolo ho due figli ho cinque nipoti ai che bello nipoti e questo è tutto perfetto grazie Anna Manuel Anna dimenticato di dire che è la mia moglie lei l'ha fatto per te dire sono Manuel è brasiliano nascito a Rio di Janeiro e sono pensionato tutte le altre cose Anna già ha detto due grazie Manuel Kelvin come stai sto bene grazie come state benissimo ok io sono Kelvin io vengo dal Cameroon in Africa io ho 23 anni adesso e io sono qui per far praticare italiano con voi mi piace praticare le lingue straniere benissimo bravissimo Kelvin grazie Wale ciao a tutti mi chiamo Wale sono abito in Alagoas sono insegnante dell'arte e studente di biologia anche e sono qui per imparare e praticare l'italiano grazie Wale Teresa ciao a tutti come state sono Teresa ho 29 anni habito a engenheiro Paulo di Frontin un piccolo paese vicino a Rio di Janeiro lavoro con tecnologia sono remote science analyst su PIX force eppure faccio la laurea magistrale in scienza del suelo questi mesi fa un anno che io e mio ragazzo siamo coinquilini che bello bravissima grazie jessica bentornata jessica come stai ciao a tutti buonasera grazie bene io ho 27 anni io abito a san paolo io faccio la cantante mi piace la musica ma anche io ho studiato comunicazione all'università è tutto io sono anche hostess dello spagnolo qui intente è questo grazie jessica bene ciao jessica mi manca ciao mi manca molti abbiamo quelle domande quindi Rosalia tu puoi leggere la prima domanda per favore sì cosa rende facile parlare con qualcuno posso rispondere anche per favore per me penso che secondo me parlare con qualcuno rende facile quando conosciamo le persone connezziamo dei gusti sappiamo cosa vi rende facili una cosa che penso più importante sapere ascoltare perché penso che più importante ascoltare di parlare perché mostra persone che ha interesse quello che stai parlando sono d'accordo io ho un problema io parlo e devo fare attenzione perché a volte dico come parlo però è importante Edna cosa pensi soffro del stesso male parlo 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 per me rende facile parlare con qualcuno ma concordo con Rosalia che è molto importante sentire le persone ma per me è più facile perché sono una sono una persona con estrovertita non c'è problema per me parlo con qualcuno se conosco se non conosco parlo e ti piace parlare di un po' di tutto di argomenti diversi sì 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 mi piace parlare di musica di viaggio di cultura mi piace tantissimo parlare con persone diverse perché io amo imparare diverse di culture diverse di modo di vivere per me è molto interessante tutte le persone sono interessanti in molti aspetti è vero e tu Anna sei timida o ti piace parlare di che argomento ti piace di più non credo che sono una persona introvertita ma dipende dipende della persona o delle persone che che stanno insieme dipende dell'agromento dipende di tante cose dipende se è la prima volta che sto con le persone dipende benissimo Manuel ti piace parlare molto o poco di solito all'inizio io sono chiuso ma quando conosco le altre persone io parlo molto l'inizio non è facile per me quando sto in un gruppo che non è un gruppo di amici un gruppo nuovo per me è un po' difficile se c'è un soggetto posso parlare di quello soggetto ma per me è un po' difficile iniziare la conversazione scegliere soggetto ma se stiamo parlando di un soggetto sempre ho un'opinione parlo non c'è problema e parlo molto quando mi sinto sicuro a volta a questo ci piace un argomento specifico e questo argomento parliamo tantissimo perché è una passione parlare di lingue per esempio mi piace tantissimo posso ascoltare parlare in tempo largo perché mi piace molto questo argomento cambia con quale persona sta parlando se sta parlando con una persona che piace parlare di viaggio o è una buona conversa se parla con una persona che piace parlare di calcio hai ragione Emanuele perché quando l'argumento non ti interessa io mi uso mia bocca chiusa sì vero Elvin cosa pensi cosa rende facile parlare con qualcuno per me io direi che quando io ho la stessa interesse con questa persona e anche quando le persone non sono orgogliose e non pensano che sono meglio che gli altri per questo mi fa facile parlare con loro ma quando sono orgogliose non è facile parlare con qualsiasi persone che sono orgogliose e pensano che sono miglior che gli altri interessante e Teresa cosa pensa con qualcuno sicuramente rende facile parlare dalla climatologia del tempo ad esempio come piove non piove da molto ma che freddo fa caldo della madonna è molto facile sempre quando io faccio questo dico di nuovo è una cosa non so non è interessante fare questo però sempre facciamo la prima cosa che pensiamo fare la cosa più facile viene da sola sì sì e tu Ale per me credo che il gusto in comune sia un bom modo per parlare facilitare la conversazione con 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 esempio quando scopri scopri la altra persona piace di stesso cantante che tu per per è un buon inizio per iniziare una conversazione è vero e tu Jessica anzitutto anzitutto io credo che non so se ho capito bene questa espressione cosa rende come diventa facile è o che deixa facile falar con o che faz facile bene io sono d'accordo con Manuel prima io sono un po chiusa ma se c'è un argomento simile che piace a tutti è molto è più facile e non so io non sono una persona che comincia a parlare così in autobus con le persone che qualcuno che non conosco ma io non credo anche che io sono una persona timida non so un po è tutto tra le due cose diciamo timida per parlare con le persone che non conosce però parla io penso che parlo sempre molto con persone che conosco con persone che non conosco sempre terribile devo pensare così benissimo edina tu puoi leggere la domanda 2 e rispondere quali sono i tuoi tipi di conversazione preferiti mi piace tantissimo parlare di viaggio di esperienze di esperienze con viaggio ma anche mi piace parlare di cinema di musica un sacco di cose ma io io voglio conoscere mia curiosità e molto di come vivere le persone per esempio per esempio io abito in rio di janeiro come è il rio di janeiro come la vita in rio di janeiro in rio grande di sul come sono le persone questa cosa mi piace tantissimo vedere come le persone vivono quali sono le abitudini questo voglio molto per questo motivo voglio molto viaggiare viaggiare mi piace molto viaggiare da solo perché io sono libera e posso fare un sacco di cose per esempio quando vado in un museo mi piace per esempio restare molto tempo in quello luogo e sono libera per fare questa cosa mi piace questa cosa Edina e se tu viaggi a un paese dove si parla una lingua diversa cerca di parlare o sei un po' timida o paura di parlare la lingua è interessante Chris io ho viaggiato tante volte per Italia perché parlo italiano per me è molto importante parlare la lingua del paese e sa rispetto delle persone della cultura dove sta visitando per questo motivo sto imparando l'inglese perché l'inglese è una lingua universale e posso conoscere molti altri luoghi ma penso che il mio interesse e la mia emozione in stare in quel luogo è perché io ho studiato la cultura e ho visto molte cose al rispetto a quello luogo è molto importante sì sono d'accordo con te ci sono argomenti che ti piace di più di parlare sì a me mi piace molti argomenti mi piace prima cose come cultura la cultura dell'arte storia dell'arte rinascenza mi piace molto la storia greca con la mitologia mi piace cose come parlare come questo come di cinema ma non della vita dell'attore ma come la storia e le emozioni e cosa hai un po' profondo non cosa come ha guardato investiti di jolie non questo ma la storia del film cosa come un po' profonda e le emozioni e non a qualcuno ma mi piace un po' un po' dipende parlare di storia del paese la storia è una politica non attuale ma cosa come ha construto il paese come fu construto così come la storia dell'Italia una storia con tante guerre con tante cose la storia antica e questo non mi piace cosa che cosa che abbiamo scoperto penso che la parola scoperto recentemente come la storia della famiglia della nostra famiglia quando quando avevo verbo quando avevo quando avevo io non io quando a Italia teve con Italia aveva 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 una guerra de norte e sul d'Italia cosa come questa storia politica non attuale con com ma cose come questa e mi piace tantissimo parlare di biblia perché mi piace studiare imparare ebraico è una discoperta fascinante la storia interessante ebraico di ebraico a me mi piace tantissimo è troppo difficile imparare ebraico studo da solo portanto per me è difficile ma quando studo quando imparo sono cose come wow wow che bello Emanuele ti piace lo stesso tipo di argomento che Anna o diverso non possiamo ascoltarti mi dispiace sto imparando un po' da storia d'Italia come Anna ha detto e questo è un soggetto che mi piace molto io ho trovato una persona che era nata in Italia che sapeva molto della guerra della unità di Italia e Garibaldi tutto questo non è una guerra solo di eroi come Garibaldi Macelli altra parte che è il sud che ha molti morti era un problema capire questa situazione è un argomento che mi piace parlare ma mi piace parlare di scienza fantascienza che è un argomento che mi piace posso parlare di politica se la altra persona è del mesmo pensiero perché adesso in Brasile non si può parlare di politica con un conoscenze che non pensa come te è molto difficile ma è un argomento ma è la persona con cui parla è un argomento che è un argomento che sono che piace a os due piace le piace a entrambi o alle due persone e tu Teresa che ti piace parlare mi piacciono le conversazioni su che studio e lavoro come scienze scienze della terra geologiche o biologiche oppure sensori diversi anche mi piacciono le conversazioni le chiacchierate politiche benché non sia la mia specialità però ascolto di più mi piace magari parlare su cibo meteorologiche anche mi piace è davvero quelle conversazioni che si svolgono mentre sto a vacanza oppure nel bar benissimo Kelvin che ti piace parlare qual è tutto di conversazioni a me i tipi di conversazioni che mi piacciono sono prima di tutto mi piace parlare delle lingue straniere mi piace tantissimo e secondo mi piace parlare del femmin mi piace tantissimo le femmin specialmente le femmin di Marvel Universe Marvel Cinematic Universe e anche mi piace parlare della vita di Gesù Cristo mi piace tantissimo parlare sulla vita di Gesù Cristo bellissimo Jessica bene mi piace molto parlare d'arte arte e musica posso parlare molte ore e non ho sentito parlare dei libri ma io sono appassionata per letteratura queste cose credo che sia questo i sogni parlare dei sogni delle persone non dei sogni vado a letto il sogno no i sogni di sognare con desiderare sognare viaggio queste cose questo perfetto e tu Ale non posso dire una cosa specifica dipende molto al mio umore ma in questo momento ma in generale mi piace spettacolare con i miei amici parlare di cose diverse così accadute di sempre con i miei menti di musica ma mi piace molto spettacolare con i miei amici perfetto e tu Rosalia per me penso che è lo stesso di quasi tutti perché mi piace tantissimo parlare delle lingue che sto imparando principalmente con le persone che le piaccia lo stesso perché non ho come parlare con le mie famiglie che stanno imparando cose che sto imparando perché l'argomento non rende di più e mi piace tantissimo parlare anche di argomenti di famiglia di figlio cose di madre lo sai e mi piace parlare di viaggio cosa che mi piace desiderio di fare cosa questo sentito Anna tu puoi leggere per favore la domanda numero tre e rispondere mai avuto una bella conversazione con un perfetto sconosciuto di cosa hai parlato con sconosciuto sconosciuto Anna non parla con sconosciuto neanche a telefono molto bene molto bene dice a noi Anna è molto reservata Anna hai imparato buonissimo questa parte no io penso che dipende dell'umore come hai detto prima no si sono felice un giorno felice voglio parlare voglio ascoltare però ho avuto esperienze di giorno che non volevo parlare e qualcuno ha cominciato a parlare sull'estrada io odio non voglio ascoltare però non voglio essere maleducata quindi era un po' difficile la situazione a volte è un po' difficile sì è vero perché se si trova lo sconosciuto la persona in una festa non è un sconosciuto ma se sta nella via comprando qualcosa o qualcuno luogo che non che è pubblico non mi piace parlare iniziare una conversazione con specialmente se è un ragazzo un uomo se è una donna non vedo problema ma con un uomo non mi piace questo questo anche il tempo che viviamo adesso che sempre dobbiamo avere fare attenzione avere un po' di paura prima era diverso prima era bene posso parlare però oggi purtroppo non è così e tu Jessica ti ricorda qualcuna volta che hai parlato con sconosciuto come è stato non ricordo ma ricordo su internet non so se è la stessa cosa ma io non conosceva non so il ragazzo ma mi non so come dire ho trovato la persona e la le 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 frasi le frasi della biografia non so come spiegare bene in italiano era di poesia io ho iniziato a con una domanda questa queste questo testo è di un libro di una poesia e il ragazzo ha iniziato a rispondere e iniziamo a parlare così non conoscevano non so è stato è stato un'esperienza diversa perché io non so forse io ero era in un giorno un buongiorno io ho iniziato a parlare con qualcuno ma io ricordo di questa situazione ma le vie no sull'internet può accadere interessante questo di ricordare l'internet perché oggi è molto comune no cominciare a parlare con qualcuno sull'internet io mi ricordo poco tempo fa ho ricevuto un messaggio perché faccio parte di molti gruppi di internet per parlare lingua e sempre succede che qualcuno scrive possiamo parlare tu vuoi essere mia amica e sempre penso devo rispondere o no perché a volte è interessante per parlare praticare la lingua però a volte è un po' difficile la situazione e mi ricordo sempre quando decido rispondere e pongo sono crisi sono sposata ho un figlio come già non voglio altra cosa che parlare l'idioma e una persona ha detto ah sì bene interessante perché tu mi puoi inviare una foto no no perché che vuoi praticare l'idioma o vedere una foto no ah no però non mi piace parlare con una persona che non vedo bene ciao essere una nonna è troppo difficile sì 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 io penso che tutti già abbiamo questo tipo di esperienza di ah interessante per praticare l'idioma però la persona pensa diverso di noi fortunatamente sì però amici che ho conosciuto così che io hanno detto no rispondono e tutto questo e cominciamo a parlare di lingua e oggi parliamo di lingua che era la cosa che mi interessava a volta vale la pena Teresa tu hai avuto qualche esperienza parlando con un sconosciuto una festa qualcuno in via non mi va a parlare ma in una festa sì mi piaceva però adesso non ce lo faccio mai perché ancora non esco non esco cosa abbiamo parlato non riesco a ricordare degli argomenti perché sono chiacchierate di festa non era una cosa così esistenziale importante se era non mi ricordi bellissimo e tu Calvin per me io avevo un esperienza in un negocio quando io avevo comprare qualcosa io avevo francese in inglese in inglese non non poteva parlare bene in francese e quando io sono entrato in questo negozio io sempre io dico sempre che hola hola buon dia buon dia e questo avevo scoperto che io posso parlare io ho potuto parlare spagnolo e mi mi aveva mi aveva detto che tu puoi aiutarmi tu puoi tradurre le cose di spagnolo a francese e lo facevo e quindi cominciamo abbiamo cominciato a parlare mi 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 chiedeva dove hai imparato spagnolo io ho detto che con il telefono così così era un uomo sconosciuto ma parliamo di cose diverse cose in questo negozio cose come ho imparato lo spagnolo anche è stato interessante quindi no sì era molto interessante bellissimo manuel c'è qualche storia di parlare come lei e era una conversazione troppo interessante lei mi ha detto molte cose che non sapevo e ha iniziato interessato di studiare meglio questo soggetto non ho molto problema di parlare sulla internet come ha detto Anna nella strada in un supermercato non è un luogo per iniziare una conversazione con una persona strana ma sull'internet per me non è un problema non deve parlare nessuna cosa particolare della sua vita cosa come questa sì credo che questo tipo di conversazione sono più pericolosa ma parlare di altre cose non è un problema certo e tu Edina sentito tutto voi ho pensato un po' di quello che Anna ha detto quando io ho parlato parlo con qualcuno ma non è qualcuno sulla strada sulla strada principalmente Anna quando è un ragazzo quando il ragazzo io sono chi usa è interessante perché ho sentito tutti parlare bene così ma io ho avuto una storia bastante interessante una storia bastante interessante una volta stava in Bologna per la prima volta e io sempre quando sono arrivata in un luogo che non conosco io prendo la cartina turistica e io stavo in un autobus e io chiesto a una donna una informazione una donna più grande di me da me e lei era una personata e insegnante di letteratura e ha un rapporto interessantissimo subito e lei ha detto ah non faccio niente oggi posso fare la turistica la guida turistica per voi ho imparato tantissimo questo lo questo giorno perché lei mi ha presentato tantissimo lo questo giorno perché lei mi ha presentato tanti luogo diversi e sono stata occupata tutti i giorni e io ho un'esperienza diversa perché è un rapporto ma io in internet crisi come un po come tu io sono più riservata in internet perché ho esperimentato cose non buona principalmente quando voglio parlare di lingua ho entrato in gruppo o in sito e lo trovo con qualcuno che non fa non mi piace e penso che quando sto insieme con qualcuno che non conosco posso leggere le faccia le emozioni le intenzioni e questo mi mi promuove la sicurezza 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 di parlare o non parlare ma quando Anna stava parlando di di uomo io sono così che usa perché opa che cosa che cosa sta ma condona in generale sono più aperta ma come manuele ha parlato in supermercato nessuno parla né di cosa dipende da situazione dipende da situazione come per esempio di questa situazione in autobus che è successo con me molto interessante che nel supermercato parliamo del prezzo della frutta sì 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 la frutta è buona o non è buona così no è superficiale le conversazioni non si può fare una conversazione profonda sull'arte né Anna? di caravaggio nel supermercato dipende se la coda è lunga se la coda è lunga pochia o chiacchierare un po' tu Rosalia cosa è successo con te con questo di parlare con sconosciuto? no non ho abitudini di parlare con sconosciuto però sono un poco chiusa anche io però ho avuto un'esperienza benissima quando già ho parlato qui un'altra volta un'altra volta di una senorina di una donna che ho conosciuto in un volo un volo di dieci ore ho conosciuto questa donna 89 anni la prima viaggio che hanno parlato che lei aveva aveva fatto da sola perché lei stava seduta accanto a me quindi iniziamo parla parla parlare questa donna mi ha mi ha raccontato la storia della sua vita ha perso marito a due anni in quel tempo e suo marito è stato sette anni malacchiato e ha perso a due anni dopo questo è stata un po' malata anche però la prima volta che che la sua vita ha lasciato farlo ha lasciato fare le viaggi da sola stava viaggiando con più otto amici e sembrava una giòvene facendo la prima volta una viaggio da sola più più viva con la voglia di vivere però tutto tutto il tempo della viaggio si è seduta parlando della vita delle figlie dei nipoti è molto felice però è stata un'esperienza meravigliosa. Che bello. E tu Ale? Parli con tutte le persone nella strada? Sei timido? Sì 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 mi piace molto parlare con l'estrano e ancora di più in questo contesto di quarantena dove ho parlato con tante persone nuove in app applicativo. Lo faccio sempre e uso l'app per incontrare le persone parlare di vita, di musica, l'arte e mi piace tantissimo. Teresa tu puoi leggere la domanda numero quattro e rispondere? In che cosa differiscono le conversazioni tra uomone e donne? Penso che le donne sono più grave Sono d'accordo ma da me quando io ho la conversazione con uomone e di solito non c'è differenza tuttavia a volte mi sento più comoda con altre donne soprattutto se parliamoci di e i cazzate non so che colpiscono solamente alle donne e se no non c'è Kelvin tu pensi che c'è una differenza tra la conversazione delle donne e degli uomini? Sì per me io direi di sì perché quando io parlo con una donna personalmente quando parlo con una donna invece di un uomo è come in la mia vita delle lingue che io imparo è più una cosa quando imparo con una donna è come io voglio imparare di più per mostrare. È come mi motiva io posso dire che in queste situazioni mi motiva ma nell'altra situazione non importa parlo sempre con le persone che hanno lo stesso interesse con me. Non c'è una differenza ma per motiva però riguardo della motivazione Io credo che sia una conversazione tra un uomo e una donna può essere qualsiasi soggetto ma se stiamo parlando di una conversazione tra due donne o tra due donne o uomini o sugetto sono un po' diverso per me per esempio non è generalmente non è un soggetto di parlare tra due uomini ed a parlare di moda si parlando di una cosa che parlando di un uomini o parlando di tolare tra due donne ma se parlando di una cosa che credo che non voglio lasciare un stereotipo qui ok di un uomini edona ma per esempio due donne non parlo di esporti del gioco di calcio non è un soggetto che può essere una che è una giornalista che le piace, o una persona che le piace, ma non è una cosa che è normale di parlare, è una cosa che è molto comune di parlare di due uomini. C'è soggetto che sono un po' diversi, perché quando due uomini sono in un bar, i soggetti sono un po' diversi da due donne in un bar. Sono un po' diversi. Credo che un uomo parlando con una donna può essere così. Sono d'accordo. Che pensi, Jessica? Io sto qui pensando che con mio padre, per esempio, io parlo delle macchine, le macchine, perché lui è autista e quindi a lui le piace tanto le macchine. Io ho lavorato con, come posso dire in italiano? Seguro. E quindi è un argomento più facile per parlare con lui. Ma io anche sto pensando che io ho pochi amici uomini, ma con loro io parlo di politica, di arte, di musica, principalmente musica. Io parlo con qualcuno di musica. Non c'è malo tempo. Ma io è difficile parlare di questo argomento perché viviamo in una società maschile. non so, non so parlare del femminismo in italiano ancora, ma è il ruolo delle donne e degli uomini che è un po' difficile di mescolare gli argomenti tra i geni. Io penso così. Perfetto. Wally, tu cosa pensi? Per me penso che le donne tendano ad essere più effettuose nelle conversazioni. non tutti, ma sono più effettuose degli uomini in generale per me. non posso dire... ma, per esempio, ci sono diversi tipi di uomini e donne. Può darsi che entrambi abbiamo la stessa atmosfera e può darsi che uno piace fare qualcosa di più dell'altro. ma penso che sia un caso molto individuale. Non mi piace, per esempio, di generalizzare cose del genere, ma per me le donne sono più effettuose in conversazione. Ha senso, no? Sempre abbiamo un po' di attenzione di non essere una cosa di stereotipo, però io penso che ci sono delle caratteristiche diverse, no? sono uomini, donne, c'è... non so. Non tutte le donne sono... siamo uguali, è certo, no? Però ha una tendenza, io penso di un po'. Io penso che noi parliamo troppo perché di nuovo non possiamo finire le domande. Siamo terribili parlando. Però io penso che questo è buono perché, non so, è perché è divertente, è interessante, quindi, no? Ci sentiamo sicure, non so, è motivati di parlare. Quindi è buono. Però dobbiamo finire qui, purtroppo. Ho lasciato qui sul chat un link di un sondaggio di soddisfazione. Se potete, per favore, no? Puoi lasciare lì qualche opinione, suggerenza, è molto importante. Sapete che abbiamo adesso un gruppo di WhatsApp, quindi è interessante, se siete lì, parlare con Filippi per sapere se c'è come partecipare, perché è molto interessante. No? Possiamo condividere, no? Possiamo condividere, non so, link o musica o... Questa settimana credo che Edna ha messo un video interessante. Tutte, no? Può mettere lì qualcosa di interessante in italiano. E' un ambiente sicuro per parlare con sconosciuti. Quindi, è molto interessante. Possiamo anche finire, mettere lì qualche domanda per registrare audio, scrivere, rispondere. Queste domande che non possiamo finire qui è una buona idea. Quindi, sarebbe un piacere di vedervi tutti nel gruppo WhatsApp, anche lì. Grazie mille. Possiamo continuare con queste... Sì, solo parlare. Ti piace parlare di parlare? Paola di parlare. Ok. Ragazzi, grazie mille. Io darò la mia opinione in questo, ok? Sì, Anna. Io darò la mia opinione di questo. Per favore. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buona sera. Buona sera. Buona sera. Buona sera. Buona sera. Buona sera. Grazie.